Benvenuti, sono Lorenzo Maggini di SMG, opero per SD nella zona Emilia-Romagna, vi aspettiamo per presentarvi le nuove Serie R. Ciao, sono Marco De Angelis, responsabile di zona dell'ASD del Lazio, vi aspettiamo! Ciao, sono Mauro Campi, responsabile per la Lombardia, nel settore lavorazioni speciali e materiali composti. Ciao, sono Gianluca Bassanese della SMG, rappresento SD nel nord Italia, vi aspettiamo in SD per gli aspetti tecnico-commerciali. Buona giornata! Ciao, sono Marco Fantino, titolare della distribuzione in grafiche Fantino, responsabile SD del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Ciao, sono Matteo Nicco, responsabile Romagna e Marche. Benvenuti in SD! Buongiorno a tutti, sono Simone Pezzatini, TWS, area manager Toscana. Un saluto da parte di nostra TWS di SD. Vi aspettiamo qui in SD per maggiori informazioni. Buongiorno a tutti, sono Alessandro Ghisari della TWS, via Toscana. Ringrazio a tutti i visitatori che sono fermati alla fiera e ringrazio anche a tutti i visitatori che prossimamente ci verranno a trovare in Toscana. Siamo a vostra disposizione, sono tecnico-commerciale, vi ringrazio per l'attenzione. Buona giornata! Buongiorno, sono Briganti Lorenzo, titolare della Inter SRL di Città di Castello, distributore dei prodotti SD per Umbia e Toscana. Vi aspetto presso il nostro showroom per maggiori informazioni. Ciao, sono Roberto Montenegro, responsabile Veneto per l'SD. Benvenuti! Ciao, sono Pausto Favaretto, responsabile Veneto Fliuli per SD. Ci vediamo presto, grazie!